La Regione Calabria ha tutto sotto controllo e quanto ha rassicurato ieri l'assessore regionale all'ambiente Antonietta Rizzo arrivata a Gioia Tauro per incontrare i membri del Comitato Fiume, nato spontaneamente per protestare contro la IAM, società accusata di aver smaltito illecitamente rifiuti pericolosi. Le rassicurazioni, stando a quanto affermato dalla Rizzo, si baserebbero su una serie di dati scientifici estrapolati recentemente dall'ARPACAL. Siamo a Gioia Tauro in favore di nessuno, siamo in favore della cittadinanza che ha naturalmente delle preoccupazioni, siamo per dire esattamente quello che abbiamo fatto come Regione immediatamente, cioè una serie di campionamenti che hanno evidenziato che in questo momento non c'è nessuna situazione di pericolo e oggi abbiamo portato qui i dirigenti di ARPACAL proprio per illustrare l'esito degli esami che sono stati esiguiti e proprio per fare capire ai cittadini di Gioia che in questo momento, secondo quello che ci è stato detto da ARPACAL, non c'è nessun pericolo per la salute riguardo naturalmente la questione IAM. E soprattutto che la Regione Calabria ha tutto sotto controllo, tutto monitorato. Abbiamo iniziato anche un monitoraggio delle aste fluviali per avere gli esiti chimico-fisici delle acque che sono già sul nostro sito della Regione Calabria, quindi sono accessibili a tutti e naturalmente questo ci consente in questo momento di avere un cauto ottimismo e soprattutto di poter dialogare tranquillamente con il Comitato e capire naturalmente quali sono le richieste del Comitato, se c'è qualcosa di più e di meglio da fare lo faremo insieme a loro. Garantisce il suo impegno alla risoluzione del problema davanti ai manifestanti che nel frattempo però hanno sciolto il set in anche il capogruppo del PD in seno al Consiglio regionale Sebi Romeo. C'è parso opportuno ascoltare le istanze del Comitato, è presente l'assessore Rizzo che ringrazio, il consigliere D'Agostino, vicepresidente del Consiglio regionale. Li ascolteremo, è una questione di alta sensibilità ambientale, le risposte saranno date sulla base dei dati che l'ARPAGAL ci fornisce. Noi non siamo né per fare allarmismi né per non chiarire le cose. La chiarezza fondata sui dati scientifici aiuterà la comunità a stare tranquilla. A nome del Comitato è intervenuto poi Edoardo Macino, medico specialista in medicina di laboratorio. Macino ha suggerito di effettuare delle indagini che vadano a delineare meglio tutto quello che fino ad ora è stato sversato nel depuratore. Secondo il parere dell'esperto, infatti, tali prelievi andrebbero fatto sui terreni circostanti, sul letto del Budello e sui fondali marini.